Buonasera papà non difeso, allora noi non c'è ferma manco il maltempo, la pioggia, il vento, non c'è ferma niente e nessuno, quindi nonostante ce ne saremmo rimasti a casa senza problemi questa sera, noi siamo scesi a fare la nostra battuglia dei portieri, perché comunque abbiamo un impegno verso la comunità, quindi se siamo fatti coraggio, noi non c'abbiamo paura dei latmi dei crocchetti, non c'abbiamo paura dei criminali, c'abbiamo paura di niente, però la pioggia ci sta proprio sul cazzo. Quindi apprezzate veramente lo sforzo, se fammo sta battuglia praticamente sotto i balconi dei palazzi, perché a me se mi tocca una coscia d'acqua io do de matto, poi c'è umidità, a me se gonfia il pelo, una roba allucinante, lasciate perdere insomma, quello sapete, voi donne soprattutto me potete capire. Quindi se fammo sto giretto, ma io me sa che rinuncio, faccio da scemo che per una volta facesse lui l'eroe della situazione, finisse lui sta battuglia, io me ne ritorno a casa. Ecco, salgo, vedo un attimino qui com'è la situazione, controllo tutto quanto, mi pare piuttosto tranquillo, quindi posso affidare per una volta faccio da scemo la battuglia dei quartieri, Io risargo a casa perché, ripeto, beh, me sarricciano i capelli, poi sembra che ho fatta la permanente.